Devo proprio dirvelo, mi era mancata la Juve, sì sì, mi era mancata, ma allo stesso tempo forse non mi era mancato tutto ciò perché ragazzi, porca vacca, si è ripartiti proprio papam col botto, ci portiamo a casa i tre punti che sono importantissimi, rimaniamo lì agganciati al Milan adesso da spettatori possiamo guardarci, spettatori interessati, la sfida tra Inter e Napoli, vediamo perché a qualcuno sicuramente andremo a rosicchiare dei punti, l'Alazio che perde con Lecce è una cosa buona, quindi per noi ovviamente la vittoria era il massimo a cui puntare, il massimo a cui ambire, sapete cosa non mi era mancato? Questa sofferenza qui, porca vacca, guardate chi appellicchio, è come se l'avessi giocata questa partita perché veramente, parto dicendo complimenti alla cremonese, veramente complimenti alla cremonese perché se il calcio fosse uno sport in cui vince chi probabilmente merita di più, mette più cose dentro la partita, probabilmente oggi la Juve non l'avrebbe portata a casa, non l'avrebbe portata a casa i tre punti, perché? Perché io ho visto una carenza di grinta in questa Juve in primis, in primis. Poi ovviamente qualcuno può dire sì ma il gioco, sì ma quello lì lo sappiamo, quella è una cosa che sappiamo, è una cosa che conosciamo tutti il modo di approcciare queste partite, soprattutto in trasferta in questa stagione, soprattutto in generale contro le squadre cosiddette più piccole, questa è una caratteristica che Allegri ha sempre utilizzato contro queste squadre, quindi la ricerca del massimo risultato col minimo sforzo, per oggi è mancata anche la precisione, intanto perché tantissime volte, minchia ragazzi ho visto passaggi sbagliati, stop sbagliati, letture sbagliate, che veramente qua stiamo parlando di attenzione, e poi veramente la grinta, io ho visto la cremonese con decisamente più grinta rispetto alla Juventus, decisamente. Poi io non ho capito, non ho capito cosa è successo nel primo tempo, quando hanno fatto quel gol che poi è stato annullato, da quanto ho capito la palla non è mai entrata, hanno detto che era suonato l'orologio dell'arbitro, ma da quanto poi ho capito non è entrata la palla. Lì c'è una lettura errata di Sule, che non è assolutamente un quinto di centrocampo, e ci è andata bene in quell'occasione lì, bravo, molto bravo Bremer a salvare sulla linea, nel primo tempo invece abbiamo avuto alcune occasioni, se vogliamo, estemporanee, singolari, con un tiro di Miretti mi pare, un tiro di Kostic molto bello, molto forte, e due occasioni da gol sviluppate, create, gestite, proprio da Sule che prova a crearsi la superiorità numerica a largo a destra, doppio passo, tiro a rientrare, e due volte Carnesecchi protagonista che va a mettere una palla in calcio d'angolo. Poi è ovvio che comunque la Juve le occasioni le ha create, le occasioni le ha avute, perché siamo intorno ai 18-19 tiri totali per la Juventus, e Carnesecchi è stato secondo me impiegato anche tante volte. Il problema è che effettivamente pericolosi, 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 di occasioni veramente importanti, secondo me non abbiamo creato così tanto. E questo è il problema, perché conto a leggere i numeri, conto a cercare di entrare in una partita, ma soprattutto loro gli hanno annullato un primo gol, ragazzi, nel primo tempo, che io non ho capito che cos'è accaduto. Non mi pareva ci fosse fallo nel gol che è stato annullato alla Cremonese, poi magari mi sfugge qualcosa, l'ho visto solo in diretta, mi sono perso qualcosa io. Però secondo me siamo stati molto fortunati a non andare sotto 1-0 in quell'occasione lì. Poi, ripeto, magari me lo riguardo e mi vengono a dire no, scherzavo, è stata una lettura giusta, una chiamata giusta dell'arbitro. Arbitro che nel primo tempo ha fischiato qualsiasi cosa, di tutto e di più, anche i sospiri, e nel secondo tempo invece cambia registro, cambia modo di dirigere la partita e inizia a non fischiare più niente. Quindi non ho capito nemmeno questa differenza di lettura della gara dell'arbitro. Però ragazzi, nel secondo tempo, poi la Cremonese, io credo che abbia tirato fuori qualcosa che forse io non mi aspettavo, ma che magari loro avevano preparato molto bene. Io ho visto proprio questa voglia da parte della Cremonese di portare a casa la partita, nemmeno di accontentarsi del pareggio, nemmeno di accontentarsi di un punto, che ovvio un punto contro la Juve per una squadra che deve salvarsi, ragazzi, è qualcosa di magico. Ma forse in quel momento la Cremonese ha annusato il fatto di poter fare la partita, di poter portare a casa la partita di una Juve che forse non era ancora tornata al meglio dal discorso mondiale, alla pausa mondiale. Quindi allora cosa facciamo? Non proviamo a farlo stare sì che ci proviamo? Allora loro giustamente, coraggiosamente, ci hanno provato. Ha preso due palli, ragazzi. Uno con Dessers, che era molto simile al tiro che aveva effettuato Chiesa pochi minuti prima, ma ha tirato meglio, ha beccato proprio il palo e lì ci siamo giocati un jolly. Secondo me è stata veramente la partita in cui ci siamo giocati i jolly. Il primo tempo con quel gol che hanno annullato, il palo appunto di Dessers, il palo, se vogliamo, anche di Afenagian, che non voleva tirare. Però è venuta fuori un'azione, una traiettoria molto pericolosa, che per fortuna si infrange sul palo. Palo da una parte e palo dall'altra ci salvano. Poi punizione con Rabiot che galoppa con il pallone tra i piedi. Si procura una posizione da punizione, da posizioni interessanti e importanti. E poi Milic che becca a sua volta il palo e questa volta il palo ci sorride. Quindi veramente è una partita giocata sui millimetri dei pali. Perché entra una parte, esce le altre due. Io faccio un po' fatica a ritenermi soddisfatto di quella che è stata la partita che abbiamo visto. Mi ritengo soddisfattissimo per il risultato. Perché la vittoria è sempre il massimo a cui puoi ambire, il massimo a cui puoi portare a casa. Tornare a vedere la Juve che fatica in questo modo invece decisamente no, non mi mancava. Non mi mancava perché credo che la Juve possa assolutamente pensare di giocarsela, non dico alla pari, ma decisamente di più con la Cremonese. Capisco che adesso inizia il periodo delle partite tutte concentrate, quindi meno energie si consumano, meglio è. Però ragazzi oggi è la partita con il Lecce che abbiamo giocato al Via del Mare elevata all'ennesima potenza. Perché in quell'occasione prendono il palo quando noi siamo già 1-0 che ci hanno giocato il jolly di Fagioli anche in quell'occasione lì e ci giochiamo un altro jolly col palo e qui ci giochiamo ancora più jolly rispetto a prima. Quindi veramente oggi mi sento sporco sportivamente perché nel gergo del calcio questa è una partita rubata tra regolette, non perché l'arbitro ha aiutato la Juve, la Juve ha comprato l'arbitro, ma l'ha rubata perché dentro il campo non mi sono quasi mai sentito il protagonista della partita. Addirittura a un certo punto ho pensato, vuoi vedere che ricominciamo esattamente con i momenti difficili stile Monza, stile Maccabi? Ho temuto, ho temuto il peggio. Per fortuna siamo riusciti a pescare più di un jolly dal mazzo Milik è riuscito a farci portare a casa tre punti che non sono pesanti, sono d'oro, sono qualcosa di ingombrante a livelli allucinanti. Concludo dicendo che non ho ben compreso il cambio di Sule, perché mi era sembrato uno dei pochi in grado di poter dare energia alla partita e di creare pericolosità negli ultimi metri. Quindi cercare di portare in vantaggio la Juve è andata bene. E io più che dirvi che è andata bene sta partita e che non è che sia proprio soddisfattissimo, non so che altro fare, ma penso che sia la lettura più onesta e facile possibile da fare. Ma voglio sentire anche un po' la vostra opinione perché mi è mancato leggere le vostre opinioni sulle partite ufficiali, perché la Micheo lì va bene, ma le partite ufficiali sono un'altra cosa. E quindi abbiamo ricominciato, non dico esattamente come avevamo lasciato lì, perché l'ultima partita prima della sosta era stata con la Lazio ed era stata una signora partita da parte della Juve. Ricominciamo con quelle partite un po' più complicate, in trasferta contro le squadre un po' più piccole, in cui l'1-0 sembra un risultato a cui abbonarsi. Ce l'abbiamo fatta, ma mamma mia, che sofferenza, ripartiamo di sofferenza, ancora, ancora una volta.